Grazie Presidente, naturalmente esprimiamo il nostro voto favorevole sulla delibera che porterà sicuramente a una manifestazione più bella e porterà sicuramente a esercitare una professione con un rapporto più corretto con l'amministrazione anche attraverso quello che il tesserino potrà garantire ai veri operatori. Mi spiace dover rintervenire sul discorso degli emendamenti perché quello che è accaduto con gli emendamenti 2 e 4 per me è molto grave, non ripeto per chi li ha presentati, che può anche averli presentati in buona fede, ma che non può non aver rilevato gli intenti non degli operatori sani del settore, perché evidentemente sappiamo tutti che ci sono in corso delle indagini, abbiamo detto tanti articoli di giornale che parlano di rivendita dei posteggi e a intervenire su una delibera che stranamente, in modo tale, anche i pareri favorevoli, quello del consigliere Bordoni se non sbaglio, degli uffici, quando va a smantellare tutta una parte del regolamento che parla dei cambi turno praticamente, perché togliendo il fatto che l'occupazione da parte degli stessi operatori, anche non di giornata e non di turno, non è abusiva, praticamente smantella una parte di regolamento, quindi va in contrasto con altre parti del regolamento stesso. Al di là di questo, a parte l'irregolarità tecnica dell'emendamento, evidentemente si vuole strizzare l'occhio a quello che chiedono alcune associazioni, voglio salvare le associazioni sane, ovvero che ognuno faccia come gli pare, come si dice a Roma, cioè io voglio esercitare dove mi pare, posso farlo dove mi pare, basta che sono a rotazione, e poi quello che succede dietro non interessa alla politica, a questa politica interessa invece che tutto venga fatto in un modo corretto, trasparente, con cambi turno regolari, informatizzati e sotto il controllo di tutta l'amministrazione. Per questo motivo noi vediamo di buon occhio questa modifica e sicuramente vediamo di cattivissimo occhio gli emendamenti presentati. Grazie.